DRAGNET Fin troppo spesso sento dire dalla gente I soldi non fanno la felicità Ma come non fanno la felicità? Eppure non ho mai visto un barbone per strada senza una coperta essere felice Ma con i soldi tutto questo è risolto Puoi comprarti una villa con piscina, una Ferrari abiti firmati, un aereo privato Puoi comprare tutto quello che vuoi Analizzando bene le normali abitudini di una persona, di fatti si scopre che la frase I soldi non fanno la felicità presenta numerose contraddizioni Una comune persona al giorno d'oggi come posso essere io ha varie spese e abitudini Ha una macchina, ha dei vestiti, ha una casa ha un animale domestico, ha la tv ha la corrente in casa, si taglia capelli ha un computer Stop! Ma tutte queste cose si pagano? Si, si pagano e manco poco Ma soprattutto La salute Non puoi comprarti da mangiare, non puoi pagare le medicine Non puoi pagare le visite, non puoi andare in ospedale Non puoi nemmeno chiamare l'ambulanza Perché non hai un telefono? In sintesi, in un mondo dove tutto è basato su dei pezzi di carta colorati Forse sì, i soldi fanno la felicità Dragnet